Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro DarkHouse92 Oggi sono qui per portarvi questo piccolo clip Che dura più o meno 4 minuti Perché praticamente c'è stato questo mio amico Che su youtube ovviamente si chiama PinkweKiller95 Vi invito a passare al suo canale Lascio il link in descrizione Che praticamente ha avuto la reaction Di usare il VR Eravamo io E lui E Mickey che sarebbe storto ma non troppo Appunto a casa di storto Eravamo a casa sua E io ho registrato il tutto Fa molto ridere Quei 4 minuti di clip Perché comunque lui E' un ragazzo molto scherzoso E niente Vi lascio il video ragazzone alla clip Tra virgolette E spero che vi possa far Sorridere o robe del genere E niente ragazzone vi voglio bene Ci vediamo alla prossima Bella boys Anzi ci vediamo domenica ragazzone Perché domenica ci sarà la live Quindi vi aspetto in live Bella brothers Buona visione Raga non vedo niente Non vedo niente Sì dopo dopo Appena parte Appena parte Io già lo sto registrando Ma perché parte subito? No tranquilli Tu devi stare tranquilli Allora ragazzi Ti stiamo facendo provare Non ci vedete di lei Il VR Che praticamente Miki Con la sedia A proposito Questa qui E' la postazione Dello stortino Ok Tranquilla C'è lo stortino Sempre in mezzo Allo stortino E' sempre in mezzo Oddio Che cos'è quella Tranquilla Tranquilla Non ti preoccupare Raga Che bellissimo Raga Oh non esci Già esci Non dico Raga Ha già paura Ma non è niente Cos'è? No ma è bellissimo Ma non è niente Non sai come si sente Ti devi fare fare quella cosa Della palla Non è mia Allora per sempre Guarda dritto Dritto Tu guarda dritto Devi guardare sempre dritto È centrato giusto? Si Si è cagando addosso Ok a posto Lo cesso No te l'ho centrato io Ti prego Con sto ortino No ma adesso Subbio Non mi fai mettere posto No non c'è No donno mia Ma che l'ho fatto Lo sai ti voglio bene Ti dico Ti voglio dire la verità Adesso non c'è niente Però dopo un po' di paura Dai Ma dopo Ok però prima Però prima All'inizio No no poi te lo giuro Te lo giuro Sulla nostra amicizia Ok mi finito dai Ok godiamocelo All'inizio No è bene Mi non ho detto 10 anni Ti chiedo Ok Mamma spostati anche Anche te Spostatevi tutti Ah ci devo spostare E' una parola qua Ok Nessuno ha stacco Quella sono io C'è solo Stofino Si Oh non è che se mi si Dopo sbaglio Mi impiono la lampadina Su per il Deletano Oggi ora come si vede Sei bellissima Ok noi ci possiamo avvicinare Adesso E ma dopo ti puoi girare Anche di dietro Mamma mamma Calma calma Poca agitazione Ragazzi prego È bellissima Ragazzi prego No è bellissima Questa la metto come clip bonus Fidati che te lo leggo Oddio Grazie Guarda che bello Guarda che bello Guarda la luce È spettacolare Mi sentite Guarda che bello Guarda raga mi sta venendo l'ansia Raga Sta tremare pure guarda No no Fagli fare il gioco della palla È spettacolare quello Guarda lo squalo là sopra Ma raga Dai fermo Non te lo togliere Non te lo togliere Ma no ma da niente Non te l'ho detto Sono serio Sono delle cose Che sembra che ti vengono addosso È bellissimo Vedi Ma dai Tu girati Guarda che lo vedi Sembra che vedi tutto Guarda che bello Che cos'è un gracchio Quello Raga Oddio È bellissimo Ok adesso c'è la luce La fadina Fadina Bellissimo Bello Oh Com'è com'è Non fare inizia Non fare inizia Che figa me la fai toccata Non fare inizia Mi fai a guardare un attimino Prima che ascono i mostri Vai No Sì No no Sì Sto cercando di captare ancora Sono di captare Che amici che ti do il joystick Guarda che c'è qua Aspetta Fermo Ok Hai visto il joystick Hai visto il joystick Ma il joystick è virtuale No Aspetta no sono lì Vino Per favore Non voglio fare il gioco dello squalo Non voglio fare inizia 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 Grazie a tutti.